We got the power, we got the good life, we are the greatest, yeah we do it brawl style We do it brawl style Bella a tutti ragazzi, oggi ragazzi siamo nella seconda parte della clan Però stavolta sarà diversa come l'abbiamo fatta prima Mi raccomando hanno già fatto i 200 virus quindi significa che siete bravi E ho scoperto che un video, che uno shorts mi ha fatto 364 like Ma va Gabriele, adesso devo scegliere io la macchina Allora Buona Vai win, win, win Si sta il cms Sì Però domani io vado a scuola e torno alle 2 Ok, sull'avaraccio è un bel dretto Buona 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 Vai 2 a 0 1 Ok Vai 2 a 0 Buona Allora Buona 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 No, l'altra volta le avevo fatte qui in giro. L'altra volta le avevo fatte... Ecco perché sbagliamo sempre. Mi sentiamo in colpa per loro. Sì. Sì, non puoi recuperare. 3-0, 3-0. No, mi sta laggando. Aiuto. Problemi. No. Mi ricordo che stanno lavorando. No. 3-0. Perché uno fai? E' per me i mini-buck in potenza. 3-0 per me. Problemi di laggo. Questo è fettente. Non lo so. Sei stato graziato da Abri. Non lo so. Sei stato graziato da Abri. che mappa mettiamo? No. Sì. Ok, adesso visto che ho messo la lascia due volte... ...mi metto una mia macchina. Non c'è buona la spawn. Sì, è buona. Devecasting. Tutti ci sono convolta che... ...us witnessed legeracanze Maybelline. In realissimo. Sì, è buona. No, no, no. 4 e 2 4 e 2 4 e 2 che buona 4 e 2 5 e 2 5 e 2 5 e 3 5 e 4 5 e 4 5 e 4 5 e 2 5 e 2 5 e 2 5 e 2 6 e 3 6 e 3 6 e 3 6 e 3 6 e 3 6 e 3 6 e 3 7 e 4 6 e 3 6 e 3 6 e 3 6 e 3 6 e 3 6 e 3 6 e 4 7 e 4 7 e 4 7 e 4